La digital transformation può essere uno straordinario fattore abilitante e di miglioramento delle persone. Noi giovani donne siamo chiamate a portare la nostra capacità per sfruttare tutto il potenziale dell'innovazione. In KPMG ho anche la possibilità di realizzarmi sul piano personale grazie al programma KPMG for Family nato per migliorare la sinergia vita lavoro e supportare l'esperienza genitoriale. Lo sviluppo tecnologico può aiutare l'empowerment femminile. Conoscere e saper applicare la tecnologia è quindi un grande acceleratore nei percorsi professionali di carriera. Grazie a diversi programmi come It's Air Future, KPMG incoraggia le donne a intraprendere carriere in abito tecnologico attraverso specifiche attività di formazione e sviluppo per crescere tutti come individui e come azienda. In KPMG l'innovazione è in tutto quello che facciamo. Crediamo che la tecnologia sia uno strumento potente per aiutare i nostri clienti a risolvere la complessità del business. Io ad esempio mi occupo di individuare sul mercato le tecnologie più avanzate sui temi di data analytics e artificial intelligence. lavoro in un team affiattato, in un clima di inclusione dove ognuno può liberamente esprimere il proprio punto di vista. Le relazioni positive tra le persone sono un aspetto fondamentale per la riuscita del mio lavoro. In KPMG supportiamo il programma Everyone is a Leader. Con passione, impegno e tenacia tutti possono davvero fare la differenza e crescere, generando valore con la propria professionalità. Per me è stato così. In KPMG vediamo la tecnologia anche come uno strumento utile per avere un impatto positivo sulla società e ridurre le disuguaglianze. Una maggiore presenza femminile anche nel settore tech porterebbe un incremento di valore di PIL per l'intero paese. Come as you are. Embrace equity.